...dalla società mista, dalla ex società mista, ecco secondo alcune indiscrezioni i dipendenti pare che non ricevano lo stipendio, non vengono remunerati dal diverso tempo. Due mesi, sono in attesa di ricevere lo stipendio del mese di settembre e del mese di agosto, a cui si aggiunge quello di ottobre, per concludersi. Ma è proprio che il signor Giusti non si renda reperibile al cellulare, ci sono anche queste voci di popolo, pare che lei abbia provato anche a Margo. Però ho concordato un appuntamento per domani alle ore 12.30 e poi a seguire un appuntamento, sempre alla mia presenza, tra lui e i sindacati alle ore 14. Ah, alle ore 14. Quindi ci sono delle novità, come aggiranno? E' prima domani. Certamente un appartatore del comune non può non pagare i dipendenti e quindi... Una situazione molto complessa. Sicuramente una situazione complessa. Il signor Giusti è la società pubblica, da lui presiduta, che ha acquistato tutto il pacchetto azionario, o quasi tutto il pacchetto azionario, aveva piena condizione di quello che stava per accadere e di quella che era la situazione finanziaria della società servizio e territorio che acquistava. Quindi ritengo che l'imprenditore sano, quale risulta essere dalle notizie assunte, a suo tempo, avrà adottato le sue catene, insomma, avrà fatto le sue scelte con ponderazione. Nessuno l'ha costretto a comprare la società di vista. Certo, però, ecco, vogliamo magari rassicurare appunto i dipendenti che... La rassicurazione, io ho avuto anche un incontro con i dipendenti, li ringrazio innanzitutto per la solerzia, la disponibilità e la professionalità con la quale erpesano le loro mansioni. Ma li ho rassicurati che il Comune è al loro fianco. Questo significa che comunque nelle loro rivendicazioni il Comune è al loro fianco e lo testimonia questo incontro fissato, da me promosso e fissato per domani. E sulla scorta delle risultanze di questo incontro poi capiremo che cosa succederà. Sarà molto importante.